C'è rabbia, c'è dispiacere, è una partita ben giocata, rispetto all'ultima partita abbiamo creato molto, siamo stati un po' pollini delle gole, bisognava fare i gol, bisognava essere più precisi, dispiace per aver perso il derby, per aver perso oggi, diciamo che abbiamo recuperato due punti sulla Lazio, invece di due vittorie ci basta una vittoria in pareggio. Come si spiega questo caccaone? Assolutamente, abbiamo finito la partita increscendo, abbiamo creato moltissimo, abbiamo preso due pali, abbiamo tirato molto in porta e dovevamo far meglio nell'ultimo minuto del primo tempo. Il periodo non so se ne ci creda al destino, però all'andata onestamente il torno meritava di perdere, è saltato fuori Pirlo, oggi mi sembra il destino identico, l'avvento sono meritato di perdere e ha preso tre pali, meglio tre punti a testa forse che due a testa. Credo che la partita è sposta, a tre secondi alla fine del primo tempo, dieci secondi prendiamo gol su uno stop sbagliato e sul rimbalzo di Bonucci che la palla rimane ferma e a due minuti alla fine una palla su Pirlo a limitellare che può concludere, le rimbalza alta. Purtroppo ci sono delle cose che vanno al di là di quello che uno fa in campo. Grazie.